Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Ciao a tutti! Ciao! Ciao Sergio, Sergini! Eccoci nello spazio dedicato ai bambini. Sì! E ieri c'è stato Halloween. Sì! Dolcetto scherzetto! L'avete fatto voi? Mannaggia, mannaggia, quanti bambini sono venuti i dolcetti scherzetti. Eh sì? Tu sei andato Sergio? Eh sì, ho fatto tanti scherzetti! Ah, tu hai fatto gli scherzetti? Sì, sì, sì. E quindi oggi abbiamo poi preparato un'altra canzone. Sì! Allora... Si chiama? Batti un piede! Batti un piede? Eh, ecco perché oggi siamo in piedi! In piedi, perché questa canzoncina si balla? Sì, proprio così, si balla! Allora mi raccomando, bambini, alzate gli in piedi! Adesso! Alziamoci in piedi! Sì, ok, allora... Si sono alzati? Eh, non lo sappiamo, ma sicuramente si saranno alzati! Sì, sì, si sono alzati! Ok! Canta, 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 cantare in libertà! Allora, possiamo cominciare! Ok, andiamo! Sei pronto tu? Sì! Ok! Sono un ballerino! Adesso o no! A Dio piede, a Dio piede, attiro per terra! A Dio piede, a Dio piede, attiro per terra! Sulle mani, sulle mani, ed ora saltella! Sulle mani, sulle mani, ed ora saltella! Poi alzo la testa Mi guardo un po' in giro Poi adoro per terra E dormo come un giro Bravo Sergio! Grazie! Mi siete divertiti? Sì, tantissimo! È bellissima questa canzone Eh, lo so, lo so, mi piace un sacco Allora, bambini Divertitevi a ballarla anche voi Divertitevi a ballarla, imparatela E poi fateci dei video e mandateceli Sì, certo! Sì, ok! Diamo l'indirizzo Cantare in libertà Chiaccelo a gmail.com Libertà senza accento sulla A Cantare in libertà Ah, non è giusto! E l'email è così Ok Va bene? Ok, ciao bambini, buona domenica! Ciao bambini, buona domenica! Mua!